Martina è scappata dal manicomio insieme a Curro, ma rischia di essere arrestata. Le anticipazioni delle puntate della promessa, in onda in Spagna, ci raccontano dei due innamorati che finalmente si ritrovano sulla panchina del sanatorio. La lettera di Martina è arrivata nelle mani giuste e Curro non ha perso tempo per salvarla. Ma proprio quando stanno per lasciare il giardino, le guardie si accorgono della loro presenza e danno l'allarme. Nel frattempo, Cruz riceve una telefonata inquietante dalla casa di cura e viene informata della sparizione di Martina. Anche di Curro non si sa più nulla. Intanto, Pia è nei guai, nascosta in una grotta con l'aiuto di Gianna e Maria, è sul punto di essere scoperta. La scomparsa di Martina e Curro diventa sempre più preoccupante. Quando Curro viene a sapere dell'accaduto, decide di far uscire Martina dal sanatorio. Senza dire nulla alla sua famiglia, va nel luogo indicato nella lettera che Martina gli aveva scritto una settimana prima, implorandolo di salvarla. Ogni giorno, Martina siede sulla panchina più nascosta del giardino, sperando in un miracolo. Quando vede arrivare Curro, pensa che sia un'allucinazione. Invece, lui è lì, accanto a lei, in carne e ossa. Curro le dice di scappare subito, ma Martina, ancora troppo spaventata, risponde, se mi fermano, mi arresteranno con l'accusa di omicidio. Curro insiste che non c'è tempo da perdere. Le passa una coperta per nascondere il volto e la porta verso l'uscita. Le guardie li vedono e danno subito l'allarme. Alla villa, Cruz viene informata della sparizione di Martina dal sanatorio. Anche Curro è scomparso e Gianna teme che sia accaduto qualcosa di grave al fratello. Nel frattempo, Romulo riceve una lettera che mette Pia in pericolo. Pia continua a nascondersi nella grotta dopo aver finto la sua morte per scappare da Gregorio, ma Petra e il suo perfido marito sanno che è viva. Maria e Gianna cercano di aiutarla a sopravvivere e mantenere il nascondiglio segreto, ma le loro buone intenzioni potrebbero non essere sufficienti. Curro e Martina potrebbero non tornare mai più. Non tutte le favole finiscono bene, e la loro potrebbe essere una di quelle. Curro e Martina hanno affrontato numerosi ostacoli per poter vivere il loro amore, superando difficoltà e pericoli, ma la loro fuga potrebbe riservare un destino amaro. Se le guardie li fermano, Martina rischia di finire in prigione. Ayala, infatti, non ha alcuna intenzione di ritirare la denuncia per tentato avvelenamento. Questo pensiero getta un'ombra di preoccupazione sui due giovani innamorati, che devono affrontare la realtà di un futuro incerto e pieno di insidie. Un'altra ipotesi, però, è che i due innamorati riescano a lasciare Luian, scappando in un luogo segreto, lontano da tutti e da tutto, dove possano vivere finalmente in pace. Questo luogo potrebbe essere un angolo remoto del mondo, un posto dove nessuno li conosce e dove possono iniziare una nuova vita, lontano dalle ombre del passato. Ma anche in questa prospettiva, la loro vita non sarebbe semplice. Vivere in clandestinità comporta molte difficoltà, dover cambiare identità, trovare modi per sopravvivere senza essere scoperti, e soprattutto convivere con il costante timore di essere catturati. Nonostante tutto, l'amore che li unisce è forte e li spinge a sognare una vita insieme, libera dalle catene delle ingiustizie e dalle accuse infondate. La loro speranza è quella di trovare un rifugio sicuro dove nessuno possa separarli, dove possano costruire il loro futuro e dove possano vivere il loro amore senza ostacoli. Tuttavia, la strada verso questo sogno è irta di difficoltà e pericoli, e solo il tempo potrà dire se riusciranno a raggiungere la loro meta o se saranno costretti a pagare un prezzo troppo alto per il loro amore. Curro e Martina sono consapevoli dei rischi che corrono, ma sono determinati a lottare per il loro amore fino alla fine. La loro storia è un esempio di coraggio e determinazione, una testimonianza del fatto che, anche nelle situazioni più difficili, l'amore può essere una forza potente che spinge le persone a superare ogni ostacolo. Nonostante le incertezze e le paure, i due innamorati non perdono mai la speranza di trovare una via d'uscita, una possibilità di essere felici insieme, lontano da chi vuole separarli. La loro avventura è appena iniziata, e il futuro è ancora tutto da scrivere. Un'altra ipotesi, però, è che i due innamorati riescano a lasciare Luian, scappando in un luogo segreto, lontano da tutti e da tutto, dove possano vivere finalmente in pace. Questo luogo potrebbe essere un angolo remoto del mondo, un posto dove nessuno li conosce e dove possono iniziare una nuova vita, lontano dalle ombre del passato. Ma anche in questa prospettiva, la loro vita non sarebbe semplice. Vivere in clandestinità comporta molte difficoltà, dover cambiare identità, trovare modi per sopravvivere senza essere scoperti, e soprattutto convivere con il costante timore di essere catturati. Nonostante tutto, l'amore che li unisce è forte e li spinge a sognare una vita insieme, libera dalle catene delle ingiustizie e dalle accuse infondate. La loro speranza è quella di trovare un rifugio sicuro dove nessuno possa separarli, dove possano costruire il loro futuro e dove possano vivere il loro amore senza ostacoli. Tuttavia, la strada verso questo sogno è irta di difficoltà e pericoli. E solo il tempo potrà dire se riusciranno a raggiungere la loro meta o se saranno costretti a pagare un prezzo troppo alto per il loro amore. Curro e Martina sono consapevoli dei rischi che corrono, ma sono determinati a lottare per il loro amore fino alla fine. La loro storia è un esempio di coraggio e determinazione, una testimonianza del fatto che, anche nelle situazioni più difficili, l'amore può essere una forza potente che spinge le persone a superare ogni ostacolo. Nonostante le incertezze e le paure, i due innamorati non perdono mai la speranza di trovare una via d'uscita, una possibilità di essere felici insieme, lontano da chi vuole separarli. La loro avventura è appena iniziata e il futuro è ancora tutto da scrivere. La loro storia d'amore è stata fin dall'inizio piena di difficoltà e pericoli. Hanno dovuto affrontare non solo le malelingue del paese, ma anche gli ostacoli imposti dalle loro famiglie e dalle circostanze avverse. Nonostante tutto, il loro amore è rimasto forte e indissolubile, portandoli a prendere la difficile decisione di fuggire insieme per cercare una vita migliore. Tuttavia, il rischio è sempre presente e le possibilità di essere catturati sono alte. Martina è particolarmente vulnerabile, poiché sulla sua testa pende una grave accusa. Se dovesse essere arrestata, il suo destino sarebbe segnato da una lunga detenzione, distruggendo così ogni speranza di un futuro insieme a Curro. D'altra parte, c'è la possibilità che Curro e Martina riescano a sfuggire alle guardie e a trovare un rifugio sicuro lontano da Luyan. In questo scenario, potrebbero iniziare una nuova vita sotto nuove identità, cercando di costruire il loro futuro lontano dalle ombre del passato. Tuttavia, la fuga richiede risorse, pianificazione e una dose di fortuna che non sempre si può prevedere. Ogni giorno in libertà rappresenterebbe una nuova sfida, con il costante timore di essere scoperti e catturati. Curro e Martina sanno che la loro decisione di fuggire è un atto di disperazione e di coraggio. Sono pronti a rischiare tutto per la loro libertà e per il loro amore. La loro storia potrebbe finire in tragedia, ma anche in un nuovo inizio lontano da tutto e da tutti. La loro determinazione a restare insieme nonostante tutto è un simbolo di quanto sia forte il loro legame. Ma la vita è imprevedibile e, mentre fuggono attraverso le terre sconosciute, con solo il loro amore come guida, sanno che ogni passo potrebbe essere l'ultimo. La speranza è l'ultima a morire, e finché avranno l'un l'altro, continueranno a lottare per il loro sogno di una vita insieme, liberi e felici. Questa è la voce che ci accompagna nelle intricate vicende della promessa, tenendoci col fiato sospeso ad ogni episodio. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime anticipazioni della promessa.